Buongiorno e benvenuti al Cantiere Repubblica, un'iniziativa che il nostro giornale ha preso per creare un laboratorio di idee, di iniziative, di pensiero da mettere a disposizione di un'Italia dell'alternativa. Noi abbiamo bisogno di spazio e di tempo per ragionare, per creare delle proposte capaci di accompagnare il nostro Paese sulla strada di un orizzonte e di prospettive migliori. Dunque grazie a tutti di essere qui, è importante iniziare da un tema come la sanità, che tocca la vita della stragrande maggioranza degli italiani e quindi è un piacere e un onore accogliervi qui e darò subito la parola a Carlo. Io vi volevo spiegare in pochissimo tempo come funziona questa cosa che cominciamo a fare oggi e darvi alcune regole di ingaggio che vi chiederei di rispettare in modo che riusciamo a fare quello che ci piacerebbe fare, cioè far sì che il tavolo sia un tavolo dialogante. Discuterete per, cioè io vi inviterei, fermo restando naturalmente siete liberi di dire quello che credete, ma io vi inviterei che questo tavolo si trasformasse in una paggella a quello che questo governo di destra non ha fatto, non ha ancora fatto, non farà mai. Questo diciamo purtroppo lo raccontiamo, lo sappiamo, ci piacerebbe che il cantiere serva in una logica di proposta. Cioè proviamo a spiegare a chi ci legge, a chi ci ascolta, che cosa è invece in animo nel vostro foro. Solleciteremo naturalmente l'ospite, di volta in volta a capotavola ci sarà uno dei leader delle forze del campo largo, lo solleciteremo invitando a una risposta sintetica e per poi far parlare ciascuno di voi su quel punto. Bene, possiamo cominciare subito dalla prima domanda. C'è un tema politico che penso che il centrosinistra debba affrontare. Cioè oggi l'Italia è molto indietro nel rapporto tra il finanziamento della sanità pubblica e il PIL rispetto all'Europa ed è molto calato negli ultimi anni e il calo inizia nel 2011-2012 col governo Monti e prosegue però con tutti i governi anche di centrosinistra. C'è anche un tema poi più sociale. Un paese come il nostro oggi, col bilancio che si ritrova, la situazione economica nel quale si trova, può permettersi una sanità pubblica come è stata costruita nel dopoguerra ancora oggi? Questa è la domanda di fondo. Quindi invito subito la segretaria Schlein a intervenire su questi punti. Grazie anzitutto di questo invito e di questa bella occasione di confronto condivisa. Deve difendere la sanità pubblica universalistica per come l'abbiamo conosciuta. Non ce l'hanno tutti i paesi, lo sappiamo, però è una cosa di cui dovremmo essere orgogliosi e difendere di più. Sicuramente ci sono state sottovalutazioni ed errori e questo in modo trasversale. Nessuno di noi, penso, può imputare unicamente al governo guidato da Giorgia Meloni, che è lì da un anno e mezzo, la situazione attuale della sanità pubblica. Certamente errare è umano, perseverare è diabolico. C'è stato in mezzo una cosa piuttosto significativa, una pandemia mondiale, che dovrebbe spingerci a capire che serve investire di più sulla salute collettiva e non certo di meno. Questo è anche ciò che si aspettano gli italiani. In una recente rilevazione il 90% di loro si è detto orgoglioso di una sanità per tutti e al contempo circa l'87% ha risposto che si aspettava, dopo la pandemia mondiale, di vedere un maggiore investimento nella sanità pubblica. Se ci sono stati errori in passato è vero, ma quantomeno durante la pandemia abbiamo visto finalmente il nostro paese avvicinarsi ad una spesa sanitaria sulla media europea. Recentemente noi abbiamo presentato come Partito Democratico una proposta di legge che chiedeva esattamente questo, da qui al 2028, di provare a raggiungere la media europea del 7,5% del PIL da destinare alla spesa sanitaria. Ora, questo è una parte di ciò che serve fare, naturalmente non basta neanche questo, però senz'altro noi abbiamo bisogno di investire di più, perché altrimenti quello che accade non è neutro. Per smantellare la sanità pubblica non bisogna cambiare le leggi, basta stare fermi, basta non finanziare più la sanità pubblica, perché le regioni da sole non ce la fanno, soprattutto dopo quello che ha voluto dire rispondere a quella pandemia. Allora, quello che accade è che mentre si svuotano i reparti, non si fanno le assunzioni, 21.000 medici sono già andati verso l'estero, 30.000 ne mancano nei reparti e 70.000 infermieri, quello che accade è che chi ha i soldi da solo, mentre si allungano le liste d'attesa, va dal privato e salta quella fila. Chi però non ha le risorse per farlo, sta rinunciando a curarsi. L'autorevole Fondazione Gimbe parla di circa 4 milioni di italiani che in qualche misura hanno già rinunciato a curarsi perché non se lo possono permettere. Questa è la negazione del Servizio Sanitario Nazionale, come è stato pensato da donne straordinarie come Tina Anselmi, che voleva esattamente una sanità che curasse chi da solo non ce la fa. Allora sicuramente una prima priorità fondamentale è aumentare il finanziamento alla sanità pubblica. Farei un primo giro di tavolo rispetto a questo primo punto, così proviamo subito a interagire. Andrei proprio diciamo in ordine di seduta. Concentrati su questo, quindi almeno 7.5 di spesa nel rapporto spesa PIL. Volevo capire se questa anche per voi è una soglia accettabile, se pensate a una soglia invece più alta. Allora intanto anch'io vi ringrazio molto per questa utilissima occasione di confronto. Sul fatto che dobbiamo raggiungere una soglia che comunque rimane ancora sotto quella della media europea, siamo tutti d'accordo e dobbiamo farlo non solo per proteggere quello che c'è adesso ma per far fronte al futuro. Noi oggi abbiamo il 23% di popolazione over 65, nel 2050 ne abbiamo il 34%. Quindi già solo mantenere quello che abbiamo non è sufficiente per far fronte ai bisogni di cura della popolazione. Figuriamoci se addirittura depauperiamo quello che c'è. E sulla spesa privata io vorrei dire che quello che mi preoccupa molto è che della spesa privata il 90% è out of pocket, cioè non sono neanche persone che si sono assicurate, sono persone che mettono le mani nella loro tasca, quindi non è neanche una spesa prevista di uno che dice mi pago l'assicurazione. È di gente che va nel privato perché non trova un'alternativa probabilmente anche in momenti di emergenza e di grande bisogno. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo. Il tema è il come. E poi bisogna avere le priorità. Io sono molto d'accordo con l'Ischland. Io faccio un altro esempio. Credo che in questo momento chi come la Lega ritira fuori il tema delle pensioni, io tra investire di più lo dico a questo tavolo, sarebbe bello fare un confronto, una modifica che riguardano le pensioni e quindi tutto il sistema contributivo e invece dire io ho la priorità della sanità che tra l'altro è una priorità di protezione della fascia più vulnerabile della popolazione, quella più anziana, quella più malata, quella che rischia un impoverimento maggiore. Io penso che questa debba essere la priorità assoluta del nostro Paese, magari rinunciando a fare delle altre cose e su questo chiudo avendo con i cittadini un rapporto di grande onestà e di grande verità e quindi avendo il coraggio di dire che tutto non possiamo fare e che noi scegliamo le priorità che riguardano la parte della popolazione che in questo momento fa più fatica ed è più esposta ai rischi, ripeto, non solo di perdere la salute ma di impoverirsi a causa della perdita di salute, che è la cosa credo più angosciante che ci sia per una persona a essere malato e pensare che da questa malattia deriverà anche un suo impoverimento materiale. Grazie. Sì, e io sull'obiettivo del 7,5 del PIL sono ovviamente d'accordo perché è il minimo, però è un obiettivo, è un desiderio, rischia di diventare soltanto, rischia di essere soltanto un desiderio se non si fa quello che diceva. Giustamente Schlein prima si individuano delle priorità sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Io sarei anche più tenero di come è sui governi precedenti perché i governi precedenti tutto sommato è vero che hanno contribuito a questa situazione, però hanno contribuito in un periodo di particolare emergenza finanziaria in cui i partiti che componevano quei governi, che non erano soltanto partiti di centrosinistra nella maggior parte dei casi, decidevano di fare magari le barricate sulle pensioni e di non farle sulla sanità, facciano barricate su altro e non sulla sanità. La questione è capire se oggi la sanità è una priorità, se lo è davvero e conseguentemente fare delle scelte. Se noi vogliamo provare a parlare una lingua comune, vogliamo dire così ci saranno tante differenze tra noi sulle singole politiche, ma quello che ci spinge a metterci intorno a un tavolo non è tanto, le politiche giuste o sbagliate sono fisiologiche in una democrazia, quello che ci mette intorno a un tavolo è la paura di una politica che nasce dal risentimento, dalla frustrazione, che genera odio, che rischia di essere distruttiva per lo Stato di diritto, per la democrazia. Se noi vogliamo andare in una direzione diversa dobbiamo proprio evitare quel linguaggio lì e quindi fa dire delle priorità e indicare delle priorità e fare delle scelte conseguenti. Per questo io credo che la sanità debba essere la salvaguardia del sistema sanitario nazionale e il suo rilancio debba essere una priorità, ma non basta dirlo e non basta dire quando ci saremo noi avremo le risorse per farlo, perché così non funziona. Innanzitutto chiariamo che stiamo parlando di due cose, stiamo parlando di sanità, cioè di come organizzare il servizio sanitario pubblico, eventualmente integrato con il privato accreditato e quindi parliamo di rapporto a sanità, PIL, di fondi, di investimenti, ha ragione quello che dice lei sicuramente e dobbiamo incominciare a parlare di salute però, perché guardate io ho un'esperienza che mi ha dato molto, io ho fatto la delega alla sanità nel mio comune per anni e ho vissuto il Covid. Quello che chiedeva la gente chiusa in casa ai sindaci, perché lo chiedeva ai sindaci, perché non c'era nessun altro a cui chiederlo, era cosa posso fare, dove posso andare e quando andai a parlare a Nembro per non far nomi di un paese che conosciamo tutti, in cui come diceva giustamente il direttore, non andiamo indietro, le persone davanti mi dicevano, dottoressa lasciamo stare le critiche e adesso cosa si fa? Ecco quindi da lì per me è stata una grandissima scuola di politica, oltre che di pratica ovviamente di vita che vivevo tutti i giorni. Quindi io distinguerei le due cose che devono incontrarci ovviamente, per cui quindi sul rapporto 7-5 ha ragione, che mi ha preceduto quando dice potrebbe essere anche l'8 e il 9 come se è in altri paesi europei, quindi per carità, però intanto teniamo questo obiettivo che è già buono. Guardate che lasciare fuori i comuni dal governo della sanità e della programmazione sulla salute è stato un errore fondamentale, perché se come dicono non solo il rapporto Svimez, ma lo dice l'Anset, lo dicono tutti i lavori che stiamo seguendo, i determinanti sociali della salute sono quasi 60%, se noi non lavoriamo lì e i comuni li conoscono questi determinanti sociali non ne verremo mai a capo e nei determinanti sociali c'è la povertà sanitaria, come si diceva, c'è la povertà dell'istruzione, chi è meno, chi studia di meno si ammala di più. È importante costruire un piano programmatico che vada oltre anche un tema di una coalizione contro, ma una coalizione per e la sanità sicuramente è un elemento fondamentale. Dobbiamo parlare un linguaggio di verità ai cittadini, noi veniamo fuori, come veniva detto all'inizio dal moderatore, da 15 anni di sottofinanziamento del sistema, basta vedere le curve, se noi mettiamo a fianco la curva italiana, a parte un piccolo balzo durante il periodo Covid, la curva francese, la curva tedesca, ma anche la curva spagnola, ci accorgiamo come noi siamo stabili sostanzialmente, per cui quella stabilità in realtà poi nei momenti inflattivi è stata una diminuzione e è una riduzione a parità di potere d'acquisto, questo è quello che è accaduto, per cui la spesa pro capite italiana oggi è a 2.850 più o meno, la spesa pro capite tedesca è circa a 6.000, 5.900, quella francese a 4.350. Se la possano interrompere così anche qui a beneficio di chi ci ascolterà, io vi riassumo diciamo il dato del rapporto della spesa, questo è un dato del 2022, la Germania era al 10.9, la Francia era al 10.3, il Regno Unito al 9.3, i Paesi Bassi all'8.6, la Spagna al 7.3, peggio di noi, c'era solo il Portogallo al 6.7 e la Grecia al 5.1. Per cui se noi pensiamo che un punto di PIL vale 18 miliardi come veniva ricordato, i numeri sono presto fatti, per cui noi abbiamo un'esigenza per evitare un aumento delle diseguaglianze nel Paese, questo è un punto importante, che già oggi l'aspettativa di vita di un neonato al sud è diversa dall'aspettativa di vita di un neonato nelle regioni del nord, allora noi abbiamo l'esigenza subito di affrontare questo tema, affrontarlo anche cercando di invertire la rotta, lo dico a me stesso che insomma ho avuto un'esperienza, una piccola esperienza, noi tutti, cioè deve essere una grande discussione popolare fuori dagli addetti ai lavori, cioè il tema della sanità una grande discussione popolare in cui raccontare le difficoltà e dire anche qual è la rotta che si intende intraprendere. E cambiando paradigma che significa? Significa anche che il sistema sanitario, nell'accezione più ampia, le scienze della vita, rappresentano anche un driver di ricchezza per questo Paese, non è solamente un'incidenza del PIL sulla spesa, perché quando si parla di sanità si parla sempre di incidenza di spesa, poi collegata alla malagestio e quant'altro, però ci si dimentica di dire che in questo sistema operano 1.400.000 addetti che pagano regolarmente le tasse, che è un grande sistema anche di alto valore aggiunto se pensiamo alle tecnologie, che è un sistema sulla ricerca importante e che rappresenta più del 10% della ricchezza del nostro Paese, per cui è anche un driver di sviluppo puntare sul sistema sanitario, per cui aumentare la coesione, diminuire le deseguaglianze, puntare sul benessere dei nostri cittadini, questo è un punto molto importante. Il problema parte da molto lontano, chi dice dal 2011, chi dice da 15 anni, 20 anni, in realtà è stata una mancanza di programmazione dalmeno un ventennio sicuramente, una mancanza di programmazione che ha portato soltanto a attivarsi in misure temporali e immediate e ha portato il problema che abbiamo oggi. Aumentare il PIL a 7,5, ma sicuramente questo è perlomeno il primo passo, perché se non abbiamo le risorse siamo fermi. Oggi si sente parlare soltanto di interventi iso-risorse, ma si è tentato, non è data neanche bene, ma è una follia. Quello che non riusciamo a comprendere, secondo me, non riusciamo a comprendere e a capire, a fare tesoro degli errori del passato. E quindi noi ci ritroviamo oggi a parlare di carenza di personale. Questo era un discorso che andava valutato 11 anni perché affinché si finisca un medical, specializzazione, eccetera, doveva essere presa già molto prima, quindi quello che facciamo oggi ce lo ritroveremo tra diversi anni. Va rivista, sicuramente va rivisto questo mondo, va rivisto. Quello che rischiamo, io vorrei riportare innanzitutto le parole della CEI, della conferenza episcopale italiana, che ha parlato di macelleria sociale. È un termine veramente pesante, macelleria, poi dalla Chiesa, insomma, sentire i Vescovi che parlano di macelleria sociale. Ma noi oggi ci ritroviamo con 21 sistemi regionali, non ce lo dimentichiamo, e siamo un paese arlecchino arlecchino veramente, dove ci sono regioni che vanno, stanno tutte in difficoltà. Anche noi quando parliamo delle regioni virtuose, comunque soffrono anche loro. E quindi ci troviamo veramente con delle differenze enormi, sia nelle aspettative di vita, ma anche proprio nell'aspettativa del cittadino di poter avere la prestazione necessaria per curarsi. È un tema che va rivisto, secondo me, in maniera molto più ampia. I temi sono tanti da affrontare sul capitolo della salute e della sanità. È evidente che le scelte che stiamo facendo, secondo me, bisogna mettersi un attimo fermi, seduti e fare un ragionamento da qui a cinque anni dove vogliamo arrivare, perché se no non ci arriviamo, se no si sente parlare delle liste d'attesa... Ecco, la fermo solo un secondo. Siete tutti d'accordo sul fatto che un tempo ragionevole per una, diciamo, rimessa a regime del sistema sanitario nazionale della sanità pubblica sono cinque anni, quattro anni, cinque anni, cioè per evitare il deragliamento e rimettere, diciamo, il treno... È un tempo ragionevole cinque anni? È troppo lungo, troppo breve. Sicuramente è lungo, è un tempo lungo, però va fatta una scelta politica importante. Sì, sì, no, no, ma io non lo chiedevo, diciamo, come dato, perché anche qui, se dobbiamo, diciamo, raccontare al Paese come stanno le cose, dobbiamo essere anche realisti nell'indicare, diciamo, dei tempi, no? È inutile dire risistemiamo la sanità in sei mesi, se ci vogliono cinque anni, no? Cinque anni fatti bene, no? Sicuramente è un tempo, serve un tempo importante, ora, difficile da quantificare in cinque o quattro anni, ma sicuramente non parliamo che da qui nell'arco di una finanziaria si riesce a risistemare, risanare un sistema sanitario come il nostro. Cercando di fare sintesi, naturalmente non si può non essere d'accordo con la necessità di aumentare gli investimenti in sanità e non si può, nell'essere realisti, capire che non è possibile farlo in un mese, ma il tempo di quattro o cinque anni è un tempo ragionevolmente, diciamo così, utile. Io sintetizzerei in tre macro argomenti le problematiche inerenti al nostro sistema di oggi sanitario. C'è una disequità di fondo nell'accesso delle cure, nell'erogazione delle cure e nell'organizzazione delle cure. L'accesso alle cure non è equo perché alcuni cittadini alle cure accedono, non è che il sistema è finito, ci sono cittadini, più della metà dei cittadini che alle cure accedono e accedono in maniera gratuita. Il problema è che c'è un'altra buona metà dei cittadini che non hanno questa possibilità e non è un caso che l'87% di questi cittadini risieda nel centro-sud. Quindi il primo fattore economico è un fattore economico dovuto a condizioni delle regioni. 67% dei cittadini che non hanno accesso alle cure vivono nel centro-sud. Ed è un dato allarmante perché ci fa capire che non è in gioco tanto la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale che per quanto mi riguarda alla domanda crediamo che ancora sia possibile, non rispondo io ma rispondo i nostri padri costituenti nell'articolo 32. Quindi non è che è possibile e obbligatorio, permettetemi. E rispondo anche andando avanti che lo stato sociale è formato da due grandi pilastri, la sanità e l'istruzione che decorrono in maniera strettamente correlata. Quindi per rispondere a quella domanda detto ciò c'è un problema insito nelle risorse, erogazione e poi arrivo a come cercare di risolvere il problema. L'erogazione delle cure, anche qui attenzione non è che le cure non vengono erogate. Noi siamo primi, secondo l'ultima ricerca, per quanto concerne le cure in acuzie. Siamo bravissimi nelle patologie tempo dipendenti, secondo in Europa, secondo in Europa, nella rete ictus e infarto. Quindi non è vero che siamo in difficoltà nell'erogazione di cure, siamo invece in difficoltà nell'erogare le cure che oggi la popolazione richiede, che non sono più quelle legate alla riforma del nostro servizio di cure che ha più di 40 anni, e che era improntata a curare l'acuto, ma le cure richieste oggi dalla popolazione sono croniche. Ahimè o non ahimè. Io dico per fortuna perché vuol dire che il progresso farmacologico, il progresso della medicina, il progresso terapeutico ha fatto sì che patologie che 30 anni fa equivalevano a decesso, oggi diventano croniche, ma devono essere curate. Per curarle bisogna investire probabilmente anche di più di quanto bisogna investire per curare una patologia acuta. La cura oggi, domani non c'è più. Quella cronica si porta avanti per tempo. Terzo, l'organizzazione direttamente correlata ad erogazione e accesso alle cure. Il nostro problema di fondo, permettetemi, magari sarà un po' controcorrente, oltre a quello economico, è quello dell'organizzazione legislativa. Noi abbiamo un sistema legislativo in sanità, vecchio, non adeguato ai tempi, dispendioso, ricco di sprechi, non dovuti sempre e solo alla mala gestione della politica, che sicuramente ci sarà, ma a leggi che non possono evitarli questi sprechi. Quando parliamo di diritto alla salute non parliamo di un diritto come gli altri. Dal diritto alla salute passa la differenza tra la vita e la morte. Quindi il diritto alla salute tra tutti io credo che sia veramente quello più sacro e condivido con quello che diceva chi mi ha preceduto, che rafforzare la sanità pubblica vuol dire anche arginare le fragilità sociali che in questo momento ci sono e che sono le più grandi di sempre. Se noi abbiamo un numero di poveri assoluti che ormai è arrivato a 5 milioni e 7 e se, come diceva la segretaria, oltre 4 milioni di persone, questi sono i dati, hanno rinunciato a curarsi proprio perché non possono permettersi di pagare la sanità. In questo primo punto che facciamo ci stiamo chiedendo, chiaramente serve investire in sanità, sì serve investire in sanità perché io, e lo dico da memoria storica di chi era in Parlamento nella scorsa legislatura proprio in Commissione Sanità, io pensavo che la pandemia ci avesse mostrato chiaramente che in sanità non bisogna mai smettere di investire perché quando ci siamo trovati ad affrontare una pandemia come quella, con i fondi che in dieci anni dal 2008 al 2018 si erano ridotti di 37 miliardi, al fondo sanitario nazionale, non è stata tagliata di 37 miliardi da tutti i governi. Io pensavo che veramente avessimo capito la lezione che investire in sanità e prevenire vuol dire anche, rappresenta sicuramente un pilastro fondamentale anche per quello che dicevate voi rispetto a quanto è importante la prevenzione, anche in termini assoluti poi un risparmio. Non parliamo di ciò che è stato fatto, però di fatto passare dal 7,4 perché si è arrivati col governo Conte 2 al 7,4%, al 6,4 eravamo in pandemia, anche l'anno dopo eravamo al 7,2, scendere di un punto di pil, come dicevamo, di fatto vuol dire aver tagliato. È chiaro che poi si prova a fare il racconto, sì, ma il fondo sanitario nazionale è il più alto di sempre perché oggi siamo a 136 miliardi, ma quei 136 miliardi vengono dagli investimenti che sono stati fatti negli anni e ci sono anche i 13 miliardi che sono stati messi durante la pandemia che hanno contribuito in grande parte per quell'aumento del fondo sanitario nazionale. L'unico modo, la mia impressione, per non accettare che pezzetto dopo pezzetto si eroda il servizio, perché è quello che sta accadendo inevitabilmente da più di dieci anni, in parte per la carenza di risorse, ma in parte anche per una volontà di molte regioni di erodere la sanità pubblica, erodere i presidi pubblici a favore di molta ospedalità privata e a favore dell'utilizzo del denaro pubblico in un qualche modo per creare grandi strutture importanti di sanità privata. Allora, per evitare questa erosione, è ovvio che ci vogliono tanti soldi, noi ci ricordiamo che questi servizi, come li conosciamo oggi, sono nati a valle della riforma del titolo quinto in un momento in cui furono investiti tanti 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 denari, per cui è stato creato un servizio stile lombardo, un servizio stile emiliano, un servizio stile toscano, ogni regione aveva a disposizione tanti tanti denari e ha creato dei modelli più o meno funzionanti, chi non li ha creati adesso è in grandi difficoltà. Quindi soldi è ovvio che servono, però servirebbe anche quella che per molti anni è stata chiamata la centralità del governo clinico, cioè se non si fa sanità senza i medici è inutile, sono i medici quelli che governano e che decidono se mi serve un attacco o se non mi serve. Poi se l'attacco non mi serve e qualcuno la deve pagare lo stesso, quell'attacco è inutile. Allora o tu rimetti al centro del servizio, come peraltro era stato fatto dal governo Prodi, il medico e la sua decisione e la sua organizzazione, cioè se devo fare un femore va fatto entro sette ore, diciassette ore, ventiquattro ore, lo deve decidere il medico entro quanto tempo va fatto un femore, perché se no sono soldi buttati via. E lo stesso la centralità del medico di medicina generale, molte delle cose che avete detto, tutte estremamente importanti, hanno un unico filtro che è il medico di medicina generale, cioè è lui che in un qualche modo attua la possibilità di prevenzione, è lui che in un qualche modo decide quanta medicina difensiva va fatta, è lui anche che utilizza i soldi che sono a disposizione, messi a disposizione dal governo e del Parlamento. Quindi la mia impressione, per andare dietro a quello che diceva la segretaria, è che quello è il punto, quelli sono i due punti, ovvio le risorse, il sette, e la centralità del medico, perché è l'unico che può farti risparmiare ed è l'unico che può erogare medicina giusta, fatta bene ed erogare, come diceva la dottoressa, salute. La domanda subito collegata è il tema delle risorse, è chiaro che oggi c'è un problema su dove reperire le risorse per arrivare almeno al 7% del rapporto tra finanziamento della sanità pubblica e PIL e quindi dire anche all'interno del calderone del bilancio dove si possono prendere le risorse necessarie per aumentare questa parte percentuale dell'investimento nella sanità. Allora sicuramente una prima priorità fondamentale è aumentare il finanziamento alla sanità pubblica, sul come. Le risorse non sono infinite ma la politica è l'arte di fare delle scelte per capire dove è prioritario investirle. Non abbiamo chiesto noi al governo attuale di alzare bandiera bianca rispetto ad esempio al contrasto all'evasione fiscale, non abbiamo chiesto noi di fare una riforma dell'IRPEF per circa 4 miliardi che sono la stessa cifra che insieme ad altre opposizioni chiedevamo nella finanziaria di mettere nella sanità pubblica. Perché lo dico? Perché è una questione di priorità. La riforma fiscale è importante, sì, ma quando la fa in un modo che si traduce in un risparmio di 15 euro di tasse al mese, non dico che non sia importante visto come l'inflazione pesa sulle famiglie italiane, però se quella stessa famiglia che risparmia 15 euro al mese poi ne deve mettere 200 perché non riesce a fare una gastroscopia prima di un anno e mezzo, allora forse non stiamo spendendo bene quella risorsa pubblica per aiutare quella famiglia. La preoccupazione degli italiani sulla sanità è la massima in tutte le rilevazioni che abbiamo visto anche verso le prossime europee. A me piace pensare che questo sia un tema trasversale su cui costruire convergenze, ma dovrebbe essere ancora più trasversale vedere un lavoro comune anche con chi oggi sta al governo che invece sta andando in un'altra direzione. Oltre a questo credo che se non vogliamo vedere lo spopolamento che già è in corso delle aree interne, delle periferie, delle aree montane, una riflessione anche su come sostenere meglio i medici, gli infermieri, le professioni sanitarie che vanno a lavorare in quelle aree, ecco sia una parte di questa discussione. Ricordo solo un dato, negli ultimi otto anni i medici hanno visto calare del 6% la retribuzione media annua contrattuale. Quindi è chiaro che in questo modo si fa molta fatica dentro quei reparti, moltissimi vanno verso l'estero, lo dicevo, ma moltissimi vanno verso il privato, perché l'altro rischio è questo. Sta diventando tragicamente più conveniente per alcuni di questi professionisti spostarsi nel privato e magari tappare i buchi facendo i gettonisti, creando anche delle disparità all'interno degli stessi reparti dove a parità di mansioni svolte ci sono retribuzioni diverse. Ecco, credo che un dato sia anche di attenzione su questo chiudo. Negli ultimi dieci anni, diciamo 2012-2022, abbiamo visto che le assunzioni stabili nella sanità pubblica sono aumentate del 2,6%. Le assunzioni precarie, cioè a tempo determinato o addirittura interinali, sono aumentate del 75%. Se si precarizza così tanto il lavoro dentro la sanità pubblica, si precarizza il livello di cura e di assistenza che si dà alle persone, penso che non ce lo possiamo permettere. Noi siamo un Paese che ha una pressione fiscale altissima e quindi immaginare di aumentare la pressione fiscale, soprattutto su chi già paga le tasse, ovviamente credo che non sia la soluzione, ma credo che nessuno di noi lo pensi. Siamo un Paese che intanto dovrebbe spendere bene i soldi che ha. Oggi leggevo che nella spesa della missione 6, quella sanitaria del PNRR, delle spese già destinate e già stanziate abbiamo speso fino al solo il 12%. E quella missione ha una parte importantissima, per esempio sulla digitalizzazione, che è un pezzo fondamentale per affrontare la carenza di medici, per affrontare un efficientamento anche dei processi che consenta, con l'aumento della spesa però, di aumentare la qualità del servizio. Quindi intanto spendiamo quei soldi il prima possibile, cosa che purtroppo non stiamo facendo in modo efficiente. Il secondo luogo, questo a tendere, non è naturalmente qualcosa che si può fare ora, però io penso che un Paese come l'Italia, se contasse in Europa, potrebbe chiedere anche che alcune delle spese che riguardano la sanità fossero contabilizzate come investimenti. Noi siamo un Paese che spende pochissimo in prevenzione, del budget totale spendiamo, l'anno in cui abbiamo speso di più che era quello del Covid, abbiamo speso meno del 7% su tutto il totale della spesa sanitaria, fondamentalmente in vaccini e tamponi, con una popolazione che invecchia la prevenzione diventa fondamentale, ma se noi spendiamo oggi un euro, gli effetti li vediamo tra dieci anni, quindi io penso che così come la spesa militare, non si capisce perché la spesa di sanità preventiva non debba essere spesa di investimento e questa aiuterebbe a liberare risorse. Naturalmente è una lotta da fare in Europa, è una ragione per cui contare in Europa sarebbe tanto utile a un Paese come il nostro e questo forse andrebbe capito in maniera più forte e poi io penso che la priorità rispetto appunto, noi dobbiamo cercare di efficientare, che non vuol dire tagliare tutti i processi, cioè tutto quello che viene prima della prestazione che arriva dopo la prestazione, in cui oggi spendiamo un sacco di soldi. Noi dobbiamo ragionare sulle risorse di breve perché c'è un problema immediato che riguarda il personale sanitario, soprattutto infermieristico e poi medico, soprattutto in determinati ambiti come la medicina d'urgenza, i medici vanno pagati, gli infermieri anche, vanno pagati quello che meritano di essere pagati e quello che vengono pagati altrove, se il privato li paga di più li deve pagare di più anche il pubblico perché il privato ha vincoli di bilancio anche più stretti di quelli del pubblico, quindi se li paga di più il privato può pagarli di più il pubblico. C'è un problema di lista e di attesa che vanno abbattute, è una cosa che ci portiamo dietro dal Covid che probabilmente anche in fase di riduzione complessiva, perché giustamente c'era un carico di lavoro in evaso che viene evaso oggi, bisogna aiutare a smalare in tempi brevi, proprio per poter fare di nuovo un ragionamento complessivo. Sulle coperture di breve ognuno può avere le sue idee, noi abbiamo anche già ragionato insieme in occasione della legge di bilancio, c'è per esempio il fatto che il regime forfettario sui professionisti fino a 85 mila Euro include anche l'IVA, ma per quale ragione? Soltanto togliendo l'IVA da quella voce si potrebbero recuperare 2 miliardi e mezzo. Per dire un tema che mi sta a portare. Una cosa solo, questo beneficio proprio di chi ci ascolta. Per portare quel rapporto a 7,5 in termini di miliardi di Euro, di che cifra stiamo parlando? Di 4 miliardi all'anno senza tenere conto, però attenzione che c'è una dinamica di crescita che quindi potrebbe voler dire anche di più, però inizialmente noi chiedevamo in quegli vendamenti congiunti 4 miliardi in più. 4 miliardi in totale dal 6,4 di oggi al 7,5 è un punto di PIL che sono circa 18 miliardi. È chiaro che si devono raggiungere nel tempo, quindi non è che si possa. Dicevamo fino al 2028, dentro il 2028. Diciamo 4 miliardi in più ogni anno fino al 2028. Per arrivare a 18, alla fine un punto di PIL, perché oggi siamo al 6,4. Sì, appunto, la scommessa sulla crescita la possiamo fare, però è una scommessa, sappiamo bene che è una scommessa, ed è un discorso a lungo termine. Io sul lungo termine preferirei ricominciare a parlare di riforme per la crescita, riforme per la competitività, eccetera. Poi chiaramente esuliamo da un dibattito che è solo sulla sanità, perché chiaramente abbiamo dei confini ristretti, ma c'è un sistema fiscale da riformare. Come reperire questi fondi, le proposte, qualche proposta è uscita, sono d'accordo. Poi non voglio dire, per dire questa è la solita, però abbiamo lì ferma anche la famosa patrimoniale, potrebbe essere ancora anche quello un tema, perché no? Però la domanda che io mi pongo, perché dobbiamo dare ragione, una risposta subito e una risposta da qui al 2028, per esempio. E qui entra un grande tema di cui nessuno parla, ma l'ha sollevato lei e la ringrazio davvero. Il tema della prevenzione. Se noi non investiamo in prevenzione, la gente si ammala e se si ammala ha bisogno dei servizi sanitari per acuti, che sia il pronto soccorso, che sia la chirurgia. Poi ci si ammala lo stesso, però noi dobbiamo, prima scelta di politica sanitaria, investire di più sulla prevenzione. E non sono gli screening. Bisognerebbe anche lì fare un discorso che gli screening vanno molto bene al nord, vanno peggio al sud, ci si ammala di più. Insomma, lasciamo stare, questo potrebbe essere un argomento in più. Non sono gli screening. La prevenzione qui, anche per l'esperienza che ho fatto, la metto davvero sul tavolo. Guardate che lasciare fuori i comuni dal governo della sanità e della programmazione sulla salute è stato un errore fondamentale, perché se come dicono, non solo il rapporto Svimex, ma lo dice l'Anset, lo dicono tutti i lavori che stiamo seguendo, i determinanti sociali della salute sono quasi 60%. Se noi non lavoriamo lì e i comuni li conoscono questi determinanti sociali, non ne verremo mai a capo. Bisogna invertire la rotta e bisogna indicare anche le fonti di finanziamento. Fu fatto un lavoro nell'ultima finanziaria, noi come azione indicammo circa 10 miliardi di risorse, 8 da investire sul personale e 2 sul tema delle liste d'attesa, partendo, come ricordava la segretaria Slein, da un giudizio negativo dato sui 4 miliardi delle detrazioni fiscali recuperati, perché quei 4 miliardi poi che vanno su un bacino di milioni di cittadini sono poche migliaia di euro al mese, quando tu vai a pagare una DAC ti chiedono 150 euro, ecco questo è un po' il tema di fondo. L'altro tema secondo me importante è il personale, che oggi è il vero grande tema, è il personale. E il personale non solo diciamo, è proprio una questione da un lato salariale, perché oggi c'è più un giovane che si istruisce perché deve guadagnare la metà di quanto va a guadagnare in Svizzera, va a lavorare in Francia, il tema del personale è enorme e a differenza di qualche anno fa, quando in una famiglia un giovane, molte volte una giovane, perché la gran parte del personale poi è femminile, è di genere femminile in sanità, ad esempio diventava infermiere, per quella famiglia era un lustro, era uno status russo, brava, oggi non è più così, oggi è un guaio, tant'è che per la prima volta accade da alcuni anni a questa parte che vanno deserti diciamo le scuole di specializzazione infermieristica, qual è anche altre linee, noi nel nostro paese nel frattempo sono andati avanti anche un pezzo importante della sanità integrativa, i fondi cosiddetti integrativi e che riguardano 12 milioni di cittadini italiani, i fondi integrativi, è un fatto sicuramente importante, se rimangono integrativi e non sostitutivi, hanno dei benefici fiscali, il nostro paese ha deciso di dedicargli dei benefici fiscali, la somma di quei benefici fiscali fa 7 miliardi, allora oggi noi ci possiamo permettere di stare in questa condizione, punto di domanda, proprio per tornare a Antonio che diceva dove si prendono le risorse, l'Inail ha un tesoretto di 3 miliardi, allora statutariamente deve avere una liquida di 2,5 negli investimenti che fanno, probabilmente sarebbe interessante anche discutere di questo. La cosa che mi preoccupa molto è che questa deriva continui, fermiamoci un attimo, individuiamo qual è la strada e investiamo, crediamoci e investiamo su quella, oggi il rischio che vedo è che continui questa deriva in negativo e quindi quando sento le liste d'attesa sostanzialmente ai suoi risorse, il nuovo tariffario che viene bloccato, non ci sono risorse, possiamo aumentare un tariffario e pagarlo, tariffarlo più basso di prima, ma è una follia, DL concorrenza, qui siamo a Roma, adesso penso a una struttura tra l'altro nostra associata che è il Gemelli, ma potete pensare a una struttura, a un ospedale Gemelli che vada a concorrenza, che forse domani c'è, forse domani non fa più chirurgia, ma la sanità non è un mercato, io partirei da questo concetto, la sanità non è un mercato e quindi alcune riflessioni secondo me devono essere fatte, sennò veramente rischiamo un'Italia molto a darlecchino, vari colori, ma dove stanno tutti chi più chi meno stanno male, non ce lo dimentichiamo. Prima di pensare a come aumentare al 7%, è un obiettivo, il PIL, pensiamo a come utilizzare i soldi che abbiamo, perché ci sono i soldi, non è che sono pochi, sì, sono inferiori rispetto al resto d'Europa, sì, vuol dire che non ce ne sono, no, cominciamo ad investirli bene, cominciamo per esempio e concludo a pagare diversamente i professionisti anche sulle scuole di specializzazione, il 22% dei posti in specialità va deserto, ci sono scuole di specializzazione che hanno il 75% di posti non assegnati e continuano ad esistere, benché non ci sia richiesta sul territorio, la specialità è domanda offerta, mi dispiace, se non c'è richiesta di anatomopatologi, lo dico per dire, di patologi clinici, che è la realtà, di microbiologi, perché esiste una nuova figura che le racchiude entrambe, chiudiamo le due scuole, le accorpiamo e aumentiamo i posti, perché ogni specializzando costa 250 mila euro all'anno, ogni 10, questo cosa vuol dire? Che se io pago uno specializzando 25 mila euro all'anno e il percorso formativo comprensivo di tasse mi costa 250 mila euro e su 16 mila borse ogni anno il 22% di queste borse non solo non viene assegnato, ma io non lo ricolloco neanche economicamente, sto perdendo soldi. Ogni medico formato che regalo all'estero costa quanto una Ferrari, 3 mila sono i medici che ogni anno tra 43 e 55 anni scelgono di andare via dagli ospedali, hanno un costo questi, finisco la medicina difensiva, 11 miliardi prospetticamente è stato valutato il costo della medicina difensiva da sola, prospetticamente 11 miliardi. Io non faccio politica, ho ascoltato prima che un punto del PIL ne vale 18, 11 miliardi prospetticamente costa la medicina difensiva, perdonatemi non è un investimento, è una razionalizzazione, come si elimina? Facciamo in modo che quando io curo la persona, oltre a prendermi i cazzotti in faccia, non debba operare con la spada di Damoco e della denuncia dietro l'angolo, per esempio. Dove bisogna reperire le risorse? Ognuno di noi abbiamo visto ha delle idee chiaramente alternative, alcune a mio avviso sono conciliabili, io però dico non facciamo l'errore di dire che per investire in sanità allora dobbiamo togliere gli sgravi fiscali o non dobbiamo rinnovare il taglio del cuneo fiscale perché poi saremmo attaccabili perché io credo che vada fatto l'uno e l'altro, però ci sono delle priorità e bisogna fare delle scelte che sono anche delle scelte politiche, noi anche negli emendamenti che abbiamo presentato in legge e in bilancio la scorsa volta abbiamo cercato delle coperture, vi segnalo che ogni anno noi spendiamo 20 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi, quei 20 miliardi certamente possono essere recuperati e investiti in sanità. Siamo in un momento in cui purtroppo, e anche questo so che non siamo tutti d'accordo, però la spesa in armi rispetto all'anno scorso è aumentata del 5% e se veramente l'obiettivo di questo governo è passare dall'1,4% di PIL che sono 28 miliardi al 2% di PIL in armi vuol dire che hanno in programma di investire 12 miliardi in armi, è chiaro che se si vuole seguire quella direzione non ci saranno i fondi, i soldi per investirli in sanità. Noi tra le coperture abbiamo sempre detto che certamente si può fare uno sforzo aggiuntivo sul recupero degli extra profitti, solo dal settore bancario si stima che gli extra profitti sono circa 2 miliardi, se si aggiunge anche il settore bellico, il settore energetico si arriva a circa 10 perché soprattutto nei momenti di crisi ci sono dei settori che fanno grandi fortune ed è giusto che da quei settori si attinga per ridistribuire quella ricchezza. E poi un ultimo punto sulle coperture, quindi gli extra profitti, i SAD, è chiaro l'evasione fiscale, sì sono 100 miliardi all'anno però quando nominiamo l'evasione fiscale è sempre vista come una copertura troppo aleatoria ma certamente io penso che uno sforzo maggiore si può fare, però c'è una bella inchiesta di Panorama Sanità che propone di aumentare la tassazione del tabacco così come ha fatto la Francia, raddoppiando il costo delle sigarette e tassando il tabacco riscaldato che oggi voi sapete ha una tassazione agevolata al 5% si possono recuperare 12 miliardi, se raddoppiamo il costo del tabacco e aumentiamo la tassazione. Anche quella lo sia una scelta politica, anche lì c'è una lobby importante e noi vi assicuro che in tutte le leggi di bilancio queste proposte abbiamo provato a farle e sono sempre state bocciate, però è evidente che quando si vuole andare un po' controcorrente bisogna anche avere il coraggio di fare delle scelte di rottura col passato. il nostro direttore di salute Minerva, cioè se diciamo c'è un minimo comune denominatore che è possibile vedere in quello che vi siete detti in questo primo giro di tavolo. Ci sono moltissime cose tra quelle che ho ascoltato che davvero condivido pienamente, anzi lo vedo, un linguaggio comune, un sentire comune, alcune priorità condivise, poi certo ci sono anche le nostre differenze ma altrimenti staremmo nello stesso partito, non sarebbe nemmeno ausplicabile, diciamo, le convergenze si fanno tra le diversità, però devo dire davvero ho trovato entusiasmante questo confronto perché dimostra che quando ci sediamo a un tavolo e proviamo a mettere avanti le questioni concrete, i bisogni delle persone, allora si capisce che si può provare a cucire alcune risposte da dare insieme. Ecco, quando uniamo i nostri sforzi, abbiamo dimostrato anche in questo anno e mezzo di lavoro in Parlamento e fuori che siamo più efficaci, costringiamo chi sta oggi al governo a fare i conti con alcune questioni. Sulla sanità abbiamo fatto alcune iniziative comuni, è vero c'era un tavolo, diciamo, simile a questo in cui si discuteva priorità condivise, abbiamo fatto sul lavoro povero, sul salario minimo con molte delle forze d'opposizione, quindi devo dire che anzitutto vi ringrazio perché è davvero una bella occasione. Provo a tracciare alcune delle questioni che trovo particolarmente condivise, a partire da una che è stata citata prima da Pierino e lo ringrazio, che è la questione di come l'autonomia differenziata sia, secondo Gimbe di nuovo, oltre che nella nostra valutazione politica, il colpo di grazia definitivo sulla sanità pubblica e lo è proprio dalle cose che ci dicevamo, compreso il dato dell'87% di persone che rinunciano o che non hanno accesso alle cure che stanno nel centro sud, cioè oggi abbiamo già un paese che è troppo diviso, un paese che è trafitto da diseguaglianze territoriali tali per cui si citava il dato prima, un bambino che nasce a Reggio Calabria ha 5 anni di aspettativa di vita in meno, diceva D'Amato, di un bambino che nasce a Bologna. Questo cozza pienamente con un diritto costituzionale che è quello ad avere un paese che ti cura, l'articolo 32, il diritto alla salute, diceva prima Castellone, ma anche con l'unità nazionale che sta scritta in quella stessa costituzione, cioè non accettiamo questa idea, rimuoviamo gli ostacoli che impediscono l'eguaglianza delle persone perché altrimenti accettiamo che ci sia un'Italia in cui il tuo destino sta scritto nella famiglia, nel luogo, nella città o nella regione dove ti trovi. E questo non lo accettiamo perché è la più grande negazione di quell'articolo 3 che dice invece eguaglianza, formale e sostanziale, rimuoviamo insieme quegli ostacoli. Allora, dicevo, mi fa piacere che le tante forze che sono qui rappresentate stanno insieme contrastando questa autonomia sbagliata fatta senza un euro, dobbiamo ricordare che l'Italia è l'ultimo paese del G7 in quanto investimento nella spesa sanitaria, quindi verissimo, partivamo da condizioni difficili, verissimo, è stato difficile anche negli anni di crisi economica finanziaria a cui si è aggiunta la pandemia e poi anche la crisi energetica, le conseguenze delle guerre, però io non credo che abbiamo scuse rispetto al panorama che vediamo intorno a noi, non credo che abbiamo scuse, sta nel fatto di mettere le priorità giuste e quindi registro con grande piacere che nella discussione oggi è un elemento condiviso che deve essere prioritario un investimento sulla sanità dopo quello che è accaduto anche negli ultimi anni con la pandemia. Terza questione, liste d'attesa. Io ho trovato una presa in giro insopportabile, un decreto fatto a cinque giorni dalle elezioni europee dopo che stanno al governo da un anno e mezzo e fatto, si diceva, lo diceva prima Mattiacci, senza metterci un euro. È come dire io posso affrontare quelle liste d'attesa che prevedono un anno, un anno e mezzo per una mammografia, per una gastroscopia senza fare nulla, facendo cose che erano più o meno già previste oppure continuando a agevolare il privato, perché questo fanno quelle soluzioni. Ce n'è una che avevano presentato già nella scorsa manovra, cioè incentivare gli straordinari. Per carità stiamo giusto dicendo quant'è poco dignitosa la situazione retributiva di chi lavora nella sanità pubblica, però attenzione, basta parlare con un medico e un infermiere per capire che hanno turni massacranti. Già ora moltissimi sfiorano l'esaurimento, il cosiddetto burnout. Allora di cosa stiamo parlando? Quanti? 67% in burnout. Ecco, 67% in burnout. Quindi come pensiamo di strizzarli come spugni ancora di più senza fare? Lo sblocco delle assunzioni è un grande piano straordinario di assunzioni. Questo mi porta a dire che avete sottolineato Albini, ma anche altri, il tema della prevenzione. Se io devo aspettare un anno e un anno e mezzo nel pubblico per fare un esame, stiamo ammazzando la prevenzione. Che vuol dire non solo aumentare le sofferenze, aumentare le solitudini, altra parola importante che ho ascoltato. Non vuol dire soltanto lasciare più solo le persone davanti alle proprie patologie, le proprie malattie, ma vuol dire anche spendere di più il giorno dopo. Perché se tu non fai prevenzione sappiamo tutti che la spesa successiva sarà di più. Quindi non è neanche un modo sensato di gestire i fondi pubblici. Prevenzione mi porta a dire pure che ho ascoltato parole importanti, sempre da Albini, sul fatto che dobbiamo considerare nel suo complesso la salute, non solo la sanità. La sanità pubblica soffre, ma la salute è anche altro. Sono le politiche di contrasto alle diseguaglianze, perché è dimostrato che chi è più povero si ammala di più e si cura peggio. Stessa cosa si può dire per chi è meno istruito, perché anche nell'istruzione abbiamo una fotografia di un paese che è troppo spaccato e l'accesso alla scuola di qualità non è uguale per tutte e tutti. Abbiamo la questione dell'ambiente, così tanto sottovalutata, l'emergenza climatica colpisce tutti, ma colpisce soprattutto le fasce che sono più povere e più fragili economicamente. Abbiamo la questione abitativa, altra questione che la politica italiana ha troppo a lungo smesso di frequentare. La questione l'abbiamo scoperta nel Covid, era molto diverso fare il lockdown in un piccolo appartamento in cinque senza magari dispositivi per seguire la didattica a distanza o farla in una bella villetta con un giardino. È stata un'esperienza difficile per tutti, ma è stata più difficile per qualcuno che quei mezzi non ce li ha e vive già in un ambiente che ti espone di più, a rischi di inquinamento, di malattia, di scarsa qualità dell'aria. Quindi questi determinanti di salute hanno un pezzo importante in questa storia. Io credo che la salute vada considerata in tutte le politiche che facciamo e che immaginiamo, da questo punto di vista con un approccio più trasversale. Poi ho sentito altre cose fondamentali, una è quella che riguarda gli errori di programmazione. È vero, bisogna fare autocritica. Se siamo arrivati a carenze di personale è anche perché in passato sono stati fatti proprio errori di programmazione sulla formazione e su quanti medici e quante diverse specialità avevamo bisogno. Però ho visto il Ministro Speranza, oltre a mettere i fondi che Castellone ricordava nell'ambito del Governo Conte, riuscire pure a incominciare a riparare a quegli errori. Quindi non è una strada segnata per forza, bisogna lavorare e investire in quella direzione. Trovo molto importante quello che diceva Masini sulla gira in due tempi. Ci siamo detti alcune priorità immediate, più risorse e più personale, ma io credo che la sfida tra di noi sia anche quella di immaginare la sanità del futuro, cioè di metterci della visione oltre che l'urgenza. E nella visione dobbiamo imparare una lezione amara da quello che è accaduto durante la pandemia. Prima questione, l'avete citata, sanità del territorio. Non possiamo pensare che basti la sanità ospedalocentrica. Perché? Perché se il mio diritto alla salute dipende troppo da quanto dista la mia casa da un grande centro urbano con il suo ospedale, io che vivo in un'area interna, che devo fare 50 km per il primo presidio di cura, lo vivrò come un diritto negato, come un diritto a metà. E quindi, case della comunità, si ricordava prima Castellone quante ne stanno togliendo dal PNRR. Ecco, questo è un problema. Non è soltanto figlio delle difficoltà economiche e delle spese. Io credo che sia figlio anche di un'altra cosa, cioè che la destra ha dimostrato nelle regioni dove governa di non credere nella sanità territoriale. E addirittura si diceva, le regioni che avete definito più virtuose, in realtà, sono anche quelle che hanno investito di più nella sanità territoriale e sono quelle che oggi soffrono di più il definanziamento che viene portato avanti da questo governo. E che, in realtà, anche prima con il Covid aveva avuto un effetto deflagrante. Quindi io credo che su queste questioni, sul fatto che abbiamo da guardare anche al tema dei comuni che sono stati tagliati fuori dalla gestione, ci porta a dire, case della comunità, che siano luoghi dove c'è una multidisciplinarità vera, perché non possono essere poliambulatori, devono essere posti dove le diverse professioni sanitarie sociali, aggiungerei le competenze anche del terzo settore, preziose, perché hanno un punto di vista sui bisogni e su come stanno cambiando, penso soprattutto alle persone con disabilità e penso alle persone non autosufficienti, lavorare in un modo nuovo insieme. Il DM77 aveva fatto dei passi avanti, bisogna però assicurare che venga attuato. Case della comunità, ospedali della comunità, mi viene pure da dire attenzione anche alla salute mentale, perché ce lo chiedono le ragazze e i ragazzi nelle scuole e nelle università, forse è utile portare nel dibattito anche un'altra cosa. Nel più vasto ambito della salute mentale su cui occorre investire di più, perché mancano anche i neuropsichiatri, in particolare i neuropsichiatri infantili, c'è una parte che è quella dei disturbi del comportamento alimentare, che colpisce soprattutto i giovani e soprattutto le donne e la risposta che hai dipende esclusivamente da dove sei, perché ci sono regioni dove mancano completamente le scrutture. 5 regioni senza neuropsichiatri infantili. Ecco, 5 regioni senza neuropsichiatri infantili, ma chi soffre di disturbi del comportamento alimentare si trova solo e tante testimonianze ci sono arrivate di donne e ragazze che l'hanno affrontata da sola perché non hanno trovato una risposta nel pubblico. Io credo che lì servano dei livelli essenziali di assistenza autonomi per i disturbi del comportamento alimentare rispetto a quelli della salute mentale perché non è una questione soltanto psichiatrica. Arrivo brevemente a concludere, ma era per dire, tante sono le cose che secondo me ci uniscono. Mi ha molto interessato questo tema del lab sulle scienze della vita e di vederlo anche come un vettore di sviluppo, da questo punto di vista abbiamo qualcosa da dare, abbiamo una filiera strategica su cui investire insieme. Naturalmente ce ne sono delle altre che secondo me sono importanti. Io credo che serve il coraggio di fare scelte di organizzazione. Su questo ci chiama in causa Pierino prima quando dice bisogna anche sapere dire la verità ai cittadini. Quella struttura lì così non tiene, può essere trasformata in una struttura di territorio che comunque non ti fa mancare un presidio e ti cura meglio, secondo me è importantissimo. Credo che sia pure importante quando ragioniamo di coperture fare il ragionamento che si faceva sui sussidi ambientalmente dannosi perché è vero sono più di 20 miliardi ogni anno ed è un controsenso però tante sono le piste che abbiamo dato. Forse è quello su cui avremmo più da discutere su come poter finanziare ma nulla ci impedisce di trovare anche tra le nostre diverse proposte delle strade comuni da presentare per la prossima manovra. Chiudo dicendo che io trovo questo format davvero e ringrazio in questo Repubblica un format molto utile e per me entusiasmante perché appunto entrando poi nelle questioni si vede come a partire dai nostri punti di vista anche diversi riusciamo a trovare delle piste di lavoro comune e si sente il segno concreto che è possibile un'alternativa. Ecco questo credo che sia importante in un momento in cui tanti cittadini hanno grandi difficoltà e hanno bisogno anche di vedere riaccesa una speranza in quello che facciamo. Io non ho mai creduto nelle formule astratte, nei campi larghi, stretti, lunghi. Io credo che le convergenze si possano costruire soltanto se ci mettiamo al tavolo e a partire dalle nostre competenze e dalle nostre visioni mettiamo in fila una serie di cose che siamo in condizione di fare insieme. Grazie. A me è piaciuto molto la cosa, cioè bisogna fare della sanità una questione popolare, no? Mi piace come informazione. Vi chiedo come si trasforma la sanità in una questione popolare. Anche a me è piaciuto molto l'idea. Facciamone una grande battaglia popolare. Come? Ma ad esempio immaginando delle assemblee da fare insieme, diciamo, in cui invitare la cittadinanza a riflettere e oppure dei seminari in cui coinvolgere. Chi ne sa sicuramente più di me. Molti di voi vengono direttamente dal settore, non è la mia esperienza. Però ecco, aprirci all'ascolto di chi vive tutti i giorni la condizione della sanità pubblica, sia negli ospedali sia nei territori, può essere una pista di lavoro comune. Io credo che avrebbe molta risposta e molto interesse da parte delle cittadine e dei cittadini italiani. E allora la domanda su come rendere più, tra virgolette, popolare. Io credo innanzitutto dicendo la verità, io su questo ho un'ossessione, cioè non bisogna mai fare demagogia, ma se c'è un tema in cui bisogna completamente buttare via qualsiasi attitudine di demagogia, di propaganda, lo dico a tutti noi che fanno politica, è quello della sanità perché la demagogia ha creato gran parte del tema di sfiducia che c'è oggi. Quindi faccio due esempi molto banali su cui bisogna dire la verità. Liste d'attesa. Dire ai cittadini che è sufficiente aumentare all'infinito l'offerta diagnostica o comunque l'offerta di prestazioni per colmare il tema delle liste d'attesa vuol dire mentire perché tutti gli esperti di sanità ti dicono che se tu aumenti all'infinito prolunghi le liste d'attesa all'infinito. Quindi il tema è di dare a chi ha bisogno le cure di cui ha bisogno e quindi è il tema, secondo me, dell'appropriatezza. Noi siamo un paese che nell'appropriatezza prescrittiva e nell'aderenza prescrittiva, quindi il medico ti dà una cura e tu segui con la cura e non vai dal farmacista a chiedere se la puoi cambiare, non stiamo investendo nulla e abbiamo invece di fronte delle opportunità che ci sono date per esempio dall'intelligenza artificiale che ci aiuta a personalizzare la diagnostica in maniera precisa. Quindi a risparmiare gli esami inutili ad individuare gli esami che servono per i pazienti oppure l'aderenza prescrittiva. Cioè abbiamo di fronte un armamentario tecnologico che nessuno nell'umanità ha avuto prima e non lo stiamo usando. Quindi su questo secondo me bisogna fare un discorso chiaro. Capisco la suggestione dell'evocazione della dimensione popolare, di una discussione sulla sanità. Per me il punto sul quale dovremmo partire è la questione dell'esigibilità dei diritti, tra cui il diritto alla salute, perché i diritti sono tali solo se sono esigibili. Pensiamo alla questione dell'interruzione volontaria di gravidanza e a come la esigibilità e la non esigibilità di questo diritto è diventato anche uno strumento attivo di condizionamento politico. Cioè si fa politica non cambiando le leggi ma rendendo più o meno efficaci o più o meno esigibili determinati diritti. Il diritto alla salute, inteso come lo intende la Costituzione, universale, è un diritto che deve essere reso esigibile attraverso il governo dei limiti di questa funzione. Cosa intendo? Le liste d'attesa, ad esempio. Le liste d'attesa sono il filtro ultimo che arriva nel momento in cui non vengono fatte scelte a monte. Perché è chiaro che uno può definire il servizio sanitario universale e gratuito, però poi i limiti sono nei fondi che mettiamo a disposizione, nel modo in cui lo gestiamo, nelle scelte che facciamo nell'organizzarlo e se queste scelte non le facciamo in maniera appropriata, il filtro poi è la lista d'attesa. Questa stanza non ospita più di 20 persone, teniamo la porta aperta, si crea l'imbuto all'ingresso e oltre non si va. Però è un filtro iniquo, è il filtro che genera il fatto che l'87% delle persone di determinate regioni non hanno l'accesso alle cure. Qui c'è l'inesigibilità di diritti fondamentali. Abbiamo bisogno di un moto di popolo, non c'è dubbio, lo chiamo così perché ci credo a questo. Non è sufficiente che facciamo le assemblee nelle grandi città, noi dobbiamo andare, mi viene da dire, piccola comunità per piccola comunità, a novembre era a Scampia a parlare di medicina di genere, pensate un po', eppure è stata partecipatissima, le sento ancora, quindi primo dovremmo avere un po' più di umiltà noi che agiamo la politica, cioè non andare a dire alle persone, far capire loro cosa stiamo facendo, ma ascoltarle, perché il tema è quello, perché forse lo stare un po' sempre più lontani, oppure ci ha fatto perdere la dimensione dell'umiltà, che non ho inventato io, l'ho inventata Anna Aaron, quindi però ci credo molto. La seconda, la questione della verità, sono d'accordissima, d'accordissimo perché bisogna andare a dire, ad esempio, la questione degli stili di vita su cui ci stanno veramente tormentando tutti i stat compreso, come se il tema del rischio sulla salute sia quello degli stili di vita. Insomma, a parte che mi piacerebbe vedere la costruzione della città che consentono di correre di case, cone, e quindi la questione della casa che dicevi tu nel tempo del Covid, quanti comuni hanno comprato gli strumenti elettronici perché i bambini fanno la scuola da lontano? Eh ma chi ha tre figli aveva un computer solo? Cosa faceva? E meno male, ecco perché dico che guardate che la questione dei comuni è fondamentale. Comunque la questione della verità, questo sicuramente centra. sulla proprietà me l'ero segnata, poi faccio un po' fatica perché il tema della proprietà è vero, non c'è niente da fare. Quando abbiamo aperto gli ospedali fino alle 10 di sera del sabato e del venerdì per fare soprattutto il tema radiologico, io allora ero delegata alla sanità, svolgevo il mio lavoro andando a sentire nei servizi, andando a vedere cosa succedeva, se c'erano cittadini e cittadine che ci andavano, perché magari no, ci andavano, accompagnavano i genitori anziani perché di giorno i figli non li potevano accompagnare, peccato che nel 70% dei casi erano prestazioni inappropriate. Quando prima dicevo una discussione popolare, è proprio per costruire ascoltando un programma di alternativa su ciò che le famiglie italiane parlano la sera, della sanità, della scuola quando è il periodo scolastico, per cui su questo fare una grande campagna di ascolto e capire quali sono le tendenze, la visione, che non può essere micro, per tutte le cose che dicevate, a partire anche dall'innovazione, cioè sta cambiando il mondo, qualche giorno fa io vedo la foto, apposta mi è venuta in mente, lì c'è il quadro di Elon Musk che diceva ridaremo la vista ai ciechi, stiamo lavorando, ovviamente lo diceva, ma non è che lo diceva senza cognizione di causa, lo diceva per una parte di innovazione, di microchip, anche sul cervello umano, cioè una cosa enorme, l'intelligenza attiva dell'innovazione produrrà, diciamo, già lo sta producendo, i farmaci innovativi, l'mRNA, l'mRNA messo sui farmaci oncologici, è un mondo che sta cambiando e noi non è che possiamo pensare che questo mondo, le risposte vengono date dalle 20 regioni che sono, diciamo, non parlo io vengo da quel mondo, per cui sono tutte apprezzabilissime, ma non ce la fai, cioè oggi a quelle domande devi avere una risposta macro, il 76% dei farmaci che noi oggi utilizziamo, i principi attivi vengono dall'Asia, il giorno che decidono di chiudere, tu non hai un farmaco, oggi il 76% dei farmaci, allora ecco la sfida oggi, è una sfida, diciamo, a livello superiore, per cui ecco perché c'è un ragionamento che deve essere fatto dal sistema paese, anche dal sistema Europa. La politica, innanzitutto, ancora una volta è chiamata a prendere decisioni importanti proprio sul futuro e forse credo che sia l'ultimo passo, insomma, oggi non credo avremo altre opportunità. Nello stesso tempo io penso però la politica, ma soprattutto i partiti più che la politica, dovrebbero stare un pochino al di fuori nelle scelte delle direzioni generali, eccetera. Facciamo un sistema di merito, e poi aggiungerei, fidiamoci un po' di medici, li abbiamo formati, li abbiamo investiti, abbiamo sentito che costa 250 mila euro un medico, facciamoli lavorare, facciamoli lavorare bene, senza una serie di pesi, lacciuoli, burocrazia, che io ho tanti amici medici a parte nel lavoro, molti mi dicono, ma lo sai che io un terzo del mio tempo lo passo a compilare, a scrivere, il minutaggio, manca un timbre, ha fatto firmare a me, al paziente, eccetera. Insomma, quindi più le varie responsabilità, come si diceva. Si è parlato anche dell'aspetto della cronicità, do solo qualche numero, ma molto flash, oggi in Italia ci sono 280 mila posti letto nelle RSA e 285 mila posti letto nelle RSA e 40 mila nella disabilità. Sembra un numero importante, 325 mila euro, però corrisponde per gli over 65, a 1,9% dei posti letto. In Europa, giusto per dare qualche numero, in Francia il 5%, in Germania il 5,4%, in Olanda il 7,3%, mi sembra, quindi anche lì siamo, credo siamo solo la Grecia sotto di noi, quindi siamo tra i fannellini di coda. Popolare, mi piace la sfida, ciò che è popolare oggi vuol dire che per utilizzare un gergo dei tempi nostri è condiviso. I like e le condivisioni rendono popolare un post o un'idea, ma perché ci sia condivisione, occorre che questa condivisione arrivi non solo a chi opera, ma a chi subisce l'intervento, cosa che oggi non c'è. Io lo dico da segno esterno all'ambito prettamente politico, il vero problema che ha la politica oggi è lo stesso che ho io, medico. Voi avete un problema di comunicazione con la base, io ho un problema di comunicazione con il cittadino, per voi è il cittadino, per me è il paziente, ma la persona è la stessa. Abbiamo problemi di comunicazione, ciò che dite, ciò che diciamo non arriva più e da ciò deriva la disaffezione al voto, la disaffezione alla politica e anche purtroppo alla classe medica, perché due terzi dei cittadini bypassano il medico. Oggi il paziente arriva da me, non dice ho mal di pancia, dice posso prendere il Debridat, anzi preferisco il Debridat. Il rapporto medico-paziente è stato minato alla base perché siamo stati utilizzati, non voglio fare dietrologia, come capi espiatori dei disservizi della politica, questa è la verità da tutta la classe politica degli ultimi 15 anni, gradualmente, costantemente. Detto ciò, il problema è similare, perché se io non riesco ad avere un paziente che mi spiega dei sintomi per ritornare all'intervento iniziale, non posso fare una corretta diagnosi, se la politica non riesce ad avere i veri problemi, non può risolvere i problemi. Quindi siamo accomunati in questo triste destino di avere difficoltà a comunicare. Il primo movens di un movimento, chiamiamolo movimento, movimenti popolari, è cambiare l'iter comunicativo, il paradigma comunicativo. Sì la verità, sì andare tra la gente, ma rivolgiamoci a chi quotidianamente sul campo non fa soltanto, ma fa e racconta. Diceva un grande maestro, la medicina c'è chi la fa e c'è chi la racconta, ma se non fosse raccontata non potrebbe essere svolta. Sono importanti entrambe le figure. A voi manca come politica chi la sappia raccontare, a noi manca come medico chi sappia raccontare ciò che noi facciamo. Questo è il presupposto per la popolarità del movimento. Provo a fare un po' una sintesi di quello che abbiamo detto in maniera molto rapida. Allora, se vogliamo immaginare una sanità del futuro, noi dobbiamo lavorare su tre pilastri. Quello dei fondi, e ne abbiamo già parlato, quello del personale e quello di una nuova governance. Pochissime battute sul personale. Credo che con la scorsa legislatura sulla formazione del personale si è fatto molto. C'erano degli eroi di programmazione, se pensiamo che nel 2018 i posti di specializzazione erano 6.002 a fronte di 10.000 laureati medici ogni anno. Vuol dire che ogni anno 4.000 medici neolaureati non potevano specializzarsi e se un medico non ha la specializzazione non può lavorare in ospedale. Per il contratto di dirigente medico serve la specializzazione. Quindi noi avevamo quello che si chiamava imbuto formativo medici laureati non specialisti e quindi non utilizzabili. Nella scorsa legislatura abbiamo raddoppiato questi posti che oggi sono 13.400 più quelli nella medicina generale che come dicevamo non sono però specializzazione, sono ancora corsi regionali. Però oggi non solo copriamo tutti i neolaureati ma piano piano stiamo riassorbendo quell'imbuto formativo. La condizione dei lavoratori anche nel privato va attenzionata perché soprattutto gli infermieri, gli operatori sociosanitari, veramente sono pagati pochissimo. È chiaro che lavorano nel privato perché non si fanno nuovi concorsi nel pubblico per il blocco e le assunzioni altrimenti andrebbero tutti a lavorare nel pubblico. Però dobbiamo essere bravi a garantire delle condizioni lavorative che siano accettabili. Voglio chiudere citando una cosa che diceva Gino Strada che sul tema della tutela della salute pubblica io credo ci abbia lasciato tanto. Gino Strada diceva che quando si passa dalla sanità come diritto alla sanità come merce e quindi si permette di garantire cure diverse a chi ha soldi e a chi non ne ha, cioè cure diverse a chi ha più soldi e a chi ne ha meno, poi succederà per forza che chi non ne ha di soldi alla fine non si potrà curare. Ecco il rischio veramente è quello e i dati ci dicono che se non facciamo attenzione e non mettiamo in sicurezza il nostro servizio sanitario nazionale. Quella purtroppo è la direzione verso cui stiamo andando. Secondo voi c'è un tema anche di riforma del sistema attuale di selezione dei manager della sanità pubblica? Detto la domanda è scontata, andiamo alla seconda domanda. E come si potrebbe risolvere oggi, riformare questo sistema? Qual è la proposta che voi fate per scegliere dei manager della sanità che abbiano delle reali competenze? Che siete disposti a disingaggiare rispetto a un meccanismo di cooptazione che spesso è sulla base dell'appartenenza politica? Mi rendo conto che è un tema molto complicato che ci può essere uno straordinario manager che non la pensa come chi ha vinto le elezioni ma magari è uno straordinario manager della sanità o viceversa. Voi quanto siete disposti diciamo in questo a disingaggiare o quanto diciamo invece questo è? Perché questo fa davvero parte poi anche del percepito rispetto alla cittadinanza. Se possiamo fare un giro più breve del primo per favore. Ma io brevemente rispondo diciamo alle due domande che in realtà si tengono insieme perché appunto questo della gestione sanitaria è un elemento fondamentale per riavvicinare la popolazione al tema o meglio alla fiducia che la politica possa risolvere i problemi sanitari cosa che oggi non c'è. Allora bisogna di ringaggiare nella parte tecnica. Cioè è chiaro che chi è tecnico deve guidare la politica. Noi l'abbiamo visto durante il covid no? La difficoltà che ha avuto a volte la politica a interfacciarsi con la parte tecnica perché non diceva quello che si sarebbe voluta sentir dire. Poi naturalmente però la politica è la parte che fa le grandi scelte e che si prende la responsabilità davanti ai cittadini della direzione non del management. Il management lo devono fare i tecnici ma la direzione la devono dare la politica. Io sono d'accordo che c'è un tema di governance come veniva detto prima ma non è una governance che si può affidare ad ogni singolo medico. Una governance che va affidata anche ai criteri dei migliori standard internazionali. Se io ho un medico che puntualmente prescrive il 20% di tacchi in più a parità di demografia io devo avere il coraggio e questa è una cosa politica non facile di andare a chiedere perché succede questo. Invece c'è sempre paura di scontentare il paziente, di scontentare il medico. Ecco questa cosa deve finire. Altra cosa su cui bisogna io penso dire la verità il tema del rapporto pubblico privato è anche lì un tema di governance. Io vengo da una regione in cui hai privati accreditati che spesso sono delle eccellenze assolute di cui noi non possiamo fare a meno. Io non posso fare a meno di Humanitas, dell'OIEO perché sono delle eccellenze assolute però è un privato accreditato a cui io do un budget e gli dico tu mi devi fare questa range di prestazioni e poi decidono loro come organizzarsi questo budget. Allora non è colpa del privato, è colpa di una politica che da vent'anni nel rapporto col privato si fa spiegare quali prestazioni farà il privato. Non fa governance. Quindi io non do colpa al privato, io do colpa al pubblico che rinuncia a governare il rapporto col privato. E' questa la cosa da considerare quando si pensa al governo della sanità. Nelle liste di attesa ci sono prestazioni inutili, la medicina difensiva che portano molti medici a prescrivere esami perché tanto è gratis e quindi si possono prescrivere e c'è lo screening, c'è la prevenzione che non riesce a trovare sbocchi perché ci sono liste d'attesa. E poi ci sono le differenze regionali che ho sentito evocare più o meno in tutti gli interventi e che dovrebbe secondo me cominciare a farci porre il problema, non so se si può dire della diregionalizzazione del servizio, è un vast programma, però se tanto finiamo sempre lì, nell'idea che poi la regionale... Certo sì che sarebbe rivoluzionario la diregionalizzazione... Io ho avuto un riformismo rivoluzionario come lo definiva... Del centralismo diciamo, no? Sì, perché c'è la sanità con i limiti del caso. Però il fatto che ci siano 20 sanità diverse rende un diritto universale sul territorio italiano, un diritto che dovrebbe essere costituzionalmente garantito ai cittadini italiani... Hai ragione rispetto a quello che dicevate prima, se dovete, come dire, se la politica è chiamata alle grandi scelte, se poi dopo le grandi scelte si polverizzano nei territori... No, le scelte si polverizzano e poi c'è una scelta è questione di... In una logica diciamo arlecchino poi di... Dopo devi convincere i cittadini delle regioni virtuose però ad accettare... Magari forse spiegandogli che non sono così virtuose... No, per carità, perché io me lo chiedo com'è problema, cosa si fa con le regioni non virtuose, le si penalizza perché hanno speso male i soldi o le si compensa in modo... Cioè non diamo risposte troppo affrettate a domande del genere, perché sono domande piene di unintended consequences di ognuna di queste problematiche. Rispetto alla domanda ultima che facevi sulla questione dei manager eccetera, perfettamente d'accordo, io posso dire sì, rinuncio a qualsiasi... ma sono l'esponente di un partito a uno scarso radicamento territoriale che non ha manager sanitario da difendere... Però ha un forte radicamento europeo... Esattamente, però ecco, diciamo trae la sua identità più dall'esposizione di questioni generali che dal vero radicamento territoriale. è un nostro limite, ora ne approfitto per fare lo splendido, diciamo così, e dire che possiamo rinunciare, ma secondo me anche quello è un problema della regionalizzazione. Il fatto di aver assegnato un capitolo fondamentale, come quello della sanità, ha una dimensione politica spesso di secondo o terzo livello. Prima dei manager, anche il personale politico, scelto spesso attraverso il sistema delle preferenze in un contesto dimensionale in cui le preferenze spesso sono frutto di filiere eccetera eccetera e quindi di ricompense, favori. Secondo me, noi dovremmo ricominciare a pensare al servizio sanitario nazionale come una cosa nazionale. Per la selezione di chi dirige la sanità ci vuole un tavolo di lavoro a livello comunale, distrettuale, provinciale, chiamiamolo come vogliamo noi, in cui ci siano sia gli operatori e le operatrici della sanità, sia i sindaci che non siano questa cosa finta che succede in regione Lombardia, che ci sono stata nei consigli di rappresentanza. Tu vai lì, ti dicono che cosa fanno, tant'è che da quando mi sono più candidata mi hanno detto sai che siamo tutti più tranquilli, eh ti credo, mi rendo conto, però insomma il tema era un po' questo. Quindi vanno riviste, poi ci vogliono persone competenti, bisogna che siano formate, ci sono le scuole di formazione di dirigenti sanitari come sai, le ho frequentate anch'io, non per fare io la direttrice generale, nessuno mi avrebbe voluto, ma proprio perché è importante la formazione, e qui entra il tema dell'università, guardate che non possiamo più parlare di sanità senza parlare di università e di formazione, è una cosa che non si può più fare, i medici di medicina generale come noi, di antico stampo, nessuno ci ha insegnato a fare i medici territoriali, nella formazione non esiste questa cosa, ci insegnano a curare le acuzie, il medico di medicina generale non sa che cos'è la medicina territoriale, intesa come governo clinico della medicina territoriale, noi non sapevamo come lavorare nei consultori, abbiamo imparato, quindi è tutto un tema che va messo insieme, quindi democrazia sanitaria serve, serve a partire dalla selezione dei dirigenti che attenzione non usiamo più neanche noi il termine, è la politica, sono i partiti, io voglio che la politica governi la sanità e governi anche la sanità insieme nell'integrazione anche la sanità privata, io ci credo alla politica, se no non sarei qui, è ovvio, però è la partitizzazione che è un'altra cosa e anche questo in un bagno di verità con i cittadini noi dobbiamo dirlo, perché allora ci allontaniamo sempre di più, la gente vota sempre di meno eccetera eccetera. Ecco perché c'è un ragionamento che deve essere fatto dal sistema paese, anche dal sistema Europa, perché se una cosa l'Europa ha dimostrato durante la pandemia è se non altro, adesso ci sono le vicende, dovranno essere chiarite, ma è sull'acquisizione dei vaccini, pensate cosa sarebbe accaduto se ogni paese faceva la gara a se stante, quella roba là non è che la trasli su scala regionale, oggi una parte anche degli acquisti deve essere fatta su scala italiana e su scala europea, cioè se vuoi è assurdo che un nuovo farmaco debba passare in EMA e poi passare nelle agenzie nazionali e aspettare 400 giorni in Italia, 186 in Germania eccetera eccetera, cioè bisogna, quando tu dicevi accelerare, semplificare, stare sul pezzo dell'innovazione e anche questo, ecco perché, e veramente chiudo rispetto a questo, anche una discussione anche sul tema della regionalizzazione, cioè io non lo vedo, le sfide sono queste che abbiamo di fronte, per cui poi sono state fatte delle modifiche nel corso degli anni, l'albo dei direttori oggi è un albo nazionale, ci sono dei requisiti, non va bene, cioè mettiamolo come una discussione aperta su questo, sapendo, e qua non dobbiamo nasconderci tra di noi, che il servizio sanitario in una buona parte delle province italiane è il primo datore di lavoro, soprattutto diciamo in alcune province del sud, ma non solo, no? Bene, ecco, ecco, benissimo, con tutto ciò che questo comporta diciamo poi anche negli elementi della politica territoriale, ecco per cui, però su questo, su questo io credo dobbiamo avere un approccio laico, diciamo, senza difendere la regionalizzazione, è stata una grande conquista del centro-sinistra, facciamo una verifica sul tema sanità, va superato oggi il modello? Bene, una discussione laica, diciamo, non ci devono essere, come dire, né primogeniture, per cui se poi da questa discussione emerge che il modello deve essere un altro, ben venga, insomma, cioè non è che va difeso ciò che non può essere difeso, ecco. Spesso sento parlare di pubblico e privato, io sinceramente faccio fatica a comprendervi, veramente faccio fatica, esiste un servizio sanitario pubblico che è composto da una componente pubblica e una componente privata accreditata, quindi io cittadino, se dovessi chiedere, avessi bisogno di una risonanza, a me, se me lo fa l'ospedale classificato religioso, o me lo fa l'ospedale, il policlinico Umberto I, o la casa di cura X, a me l'importante è che me lo faccia in tempi rapidi e sia fatto bene, è bene. Poi dopo c'è una sanità privata a pagamento, ma questo è un mondo completamente a parte, che forse viene mischiato con quello accreditato in certe riflessioni. Però ti posso dire, una parità di regole, quella è una cosa importante, cioè se un pubblico deve comprare una tac, deve fare una gara, ci vuole un anno, tu se devi comprare una tac, si è a te, chi ti fa un migliore, allora parità di regole sul personale, se uno va in pensione, non è che va in pensione del pubblico il giorno dopo, queste sono questioni sono d'accordissimo, un piccolo inciso regolare il conflitto di interessi, ma qui entreremo in un campo diciamo minato, scusa, 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 ma io condivido, un sistema che funziona sempre quando ci sono delle regole ben chiare che vanno rispettate, quindi se le rispetti stai nel sistema, se non le rispetti sinceramente battere fuori, insomma, qualcuno ti deve mandar fuori, insomma, o ricorreggere. Andiamo un attimo al governo clinico, sarebbe molto semplice per trovare una sintesi tra le esigenze, chiamiamole così, politiche e quelle nostre, uno, il direttore generale, se noi vogliamo che le aziende ospedaliere siano più ospedali e meno aziende, dovrebbe essere un medico, uno, formato, con master, corsi, graduatoria, non scelta a prescindere, se arrivo primo, vinco e vado lì, la graduatoria è regionale, è nazionale, i primi vengono chiamati, ci vuoi andare lì, no, passo avanti, è molto semplice, è molto semplice, oggi invece il direttore generale molte volte non è un medico, ma soprattutto non risponde ad indicatori di salute, io se domani mattina vado a fare il direttore generale e devo rispondere ad indicatori economici, non posso farli combaciare con l'esigenza di salute, è inevitabile, chiunque di noi qui è al tavolo, è questione di ruolo, di lavoro, è un lavoro, quindi la politica, non dico che deve star fuori demagogicamente, la politica fuori dagli ospedali, è una butade, la politica deve contribuire però a che l'ospedale funzioni in base al bisogno di salute e non economico, se no è facile. Sui professionisti permettetemi un piccolo inciso, noi siamo l'unico paese al mondo, forse lo sapete già, che pensate un po', vede coesistere per quanto concerne i medici ben 10 diverse categorie di contratti, cioè un medico oggi nel nostro servizio sanitario nazionale può essere assunto o non assunto, può contrarre rapporto con il sistema attraverso 10 modi, 10 modi, sì sì anche di più, 10 modi, ci arrivo, il problema è che io posso trovarmi con il mio collega a fianco con due modi diversi con i quali abbiamo contratto il nostro rapporto e il paziente oggi può trovare lei, domani può trovare me, il concetto di cura non basta più, noi dobbiamo passare dalla cura alla presa in carico, alla presa in cura del paziente che comincia nel domicilio e arriva in ospedale, i professionisti, guardate noi dobbiamo far capire al cittadino una cosa importantissima, professionisti è un termine secondo me paradigmatico perché tra i 9 capitoli dell'autonomia differenziata che non richiedono i LEP, non li richiedono, c'è un termine che si chiama professionisti e include tutti, è pericolosissimo, allora io ritengo per finire che abbiamo un compito molto gravoso, quello di far passare a proposito di comunicazione un messaggio che sia univoco, non strumentalizzabile e non strumentale, il messaggio non è il centro-sinistra, il partito, l'opposizione vuole, no, il messaggio è guarda cittadino, guarda paziente, a rischio c'è la tenuta del tuo futuro di stato sociale e della nostra democrazia. Una nuova governance della sanità dove in governance ci mettiamo chiaramente tutto, un diverso rapporto tra pubblico e privato, col privato che ad oggi purtroppo, come dicevamo, è sostitutivo del pubblico e invece deve ritrovare la sua vocazione di essere integrativo, fornire quelle prestazioni che il pubblico non riesce a dare, non solo le prestazioni più remunerative, anche qui, attenzione, spesso noi pensiamo che i medici vadano a lavorare nel privato perché i contratti sono migliori e guadagnano di più, in realtà vanno nel privato perché con la libera professione, voi sapete che i medici nel privato guadagnano a cottimo, cioè in base al numero di prestazioni che fanno ricevono una quota dai DRG, tra l'altro questo è uno dei problemi di cui a un certo punto si dovrà parlare perché questo sistema del pagare le singole prestazioni ai medici che lavorano nel privato genera un rischio di inappropriatezza e noi sappiamo che anche alla base di parte di quella migrazione extra-regionale che poi viene pagata extra budget. Quindi un diverso rapporto tra pubblico e privato, un diverso rapporto tra ospedale e territorio, rientra sempre nella governance, abbiamo detto, il filtro territoriale si deve creare, un diverso rapporto tra politica e nomine dei dirigenti sanitari. Questa per noi è una battaglia importante, sapete, la portiamo avanti già dalle legislature precedenti, ma non perché io o noi riteniamo che i dirigenti che oggi abbiamo, i direttori generali, non siano capaci assolutamente, io credo che ci siano delle eccellenze e delle persone che hanno fatto un lavoro straordinario, ma il sistema delle nomine oggi è legato a doppio filo con l'appartenenza, come dicevamo, a una determinata corrente politica o la vicinanza a un presidente di regione. Guardate, non c'è solo, vi spiego come funziona la nomina dei direttori generali perché magari non è noto a tutti, oggi il presidente di regione nomina la commissione che poi deve valutare i curriculum che arrivano e stilare, diciamo, una rosa di nomi, non è neppure una graduatoria, una rosa di nomi da cui il presidente poi sceglie. La condizione dei lavoratori anche nel privato va attenzionata. Poi la poca meritocrazia per chiudere purtroppo è uno dei problemi più gravi che abbiamo nella sanità ed è quello che spinge anche tanti giovani medici, tante eccellenze a lasciare questo paese perché noi qui abbiamo purtroppo delle carriere, lo diceva bene l'assessore D'Amato, un infermiere entra ed esce assolutamente con lo stesso stipendio, non c'è una valorizzazione contrattuale, lavorativa, di riconoscimento del merito. La stessa cosa succede per i medici, la stessa cosa succede per i ricercatori, quindi io credo che quello del merito poi sia un capitolo da affrontare a parte. Voglio chiudere citando una cosa che diceva Gino Strada che sul tema della tutela della salute pubblica io credo ci abbia lasciato tanto. Gino Strada diceva che quando si passa dalla sanità come diritto alla sanità come merce e quindi si permette di garantire cure diverse a chi ha soldi e a chi non ne ha, cioè cure diverse a chi ha più soldi e a chi ne ha meno, poi succederà per forza che chi non ne ha di soldi alla fine non si potrà curare. Ecco il rischio veramente è quello e i dati ci dicono che se non facciamo attenzione non mettiamo in sicurezza il nostro servizio sanitario nazionale, quella purtroppo è la direzione verso cui stiamo andando. Fondi personali e governance credo che sia la sintesi migliore della discussione che abbiamo avuto grazie a tutti di aver partecipato. Nel merito abbiamo esposto tutta una serie di idee e proposte alle quali adesso noi daremo seguito su tutte le nostre piattaforme, ma nel metodo io credo che noi siamo stati i protagonisti di una formula di interazione e di network di idee che arricchisce ognuno che è attorno a questo tavolo e quindi anche tutti quelli che seguiranno e comprenderanno ciò di cui abbiamo discusso. Grazie. Grazie.